23. La marea si abbassa La piroga, come ebbi ampio modo di constatare prima di abbandonarla, era un'imbarcazione molto sicura per una persona della mia statura e del mio peso, leggera e adatta a tenere il mare, ma era pure l'imbarcazione più strana e capricciosa da dirigere. Qualunque metodo usassi andava sempre alla deriva e il girare su se stessa era la manovra nella quale riusciva meglio. Perfino Ben Gunn aveva ammesso che era bizzarra da manovrare fino a che non si imparava come prenderla. Certamente io non lo sapevo. Voltava in tutte le direzioni fuorché in quella desiderata. La maggior parte del tempo si andava di traverso e sono ben certo che non avrei mai raggiunto la nave se non fosse stato per l'aiuto della marea. Per fortuna, pur remando come potevo a colpi di pagaia, la marea continuava a trascinarmi e là stava l'espagnola proprio sulla giusta rotta così che difficilmente avrei mancato di accostarla. Da principio mi apparve come una vaga macchia ancora più nera delle tenebre, poi l'alberatura e lo scafo cominciarono a prendere forma e un minuto dopo, perché quanto più procedevo, tanto più vivace si faceva la corrente della marea, ero accanto alla gomena e l'avevo afferrata. La gomena era tesa come la corda di un arco, tanto tesa che strappava l'ancora. Tutto attorno allo scafo, nell'oscurità, la corrente spumeggiava e gorgogliava come un torrente di montagna. Un colpo di coltellaccio e l'espagnola avrebbe subito seguito mormorando la marea. Fin qui tutto bene, ma mi ricordai che una gomena tesa tagliata all'improvviso può essere cosa pericolosa quanto un cavallo recalcitante. Con nove probabilità su dieci, se fossi stato così temerario da tagliare la gomena che fissava l'espagnola all'ancora, io e la piroga saremmo stati sicuramente proiettati in aria. Quindi mi trattenni e se la fortuna non mi avesse favorito di nuovo in modo speciale, avrei dovuto abbandonare il mio progetto. Ma i venti leggeri che avevano incominciato a spirare da sud-est e da sud, calata la notte, avevano cambiato direzione e si erano volti a sud-ovest. Mentre stavo lì a riflettere, un colpo di vento investì l'espagnola e la spinse nella corrente. Con gran gioia sentì la gomena allentarsi nella mia stretta e la mano con cui la tenevo immergersi un secondo nell'acqua. Presi quindi la decisione. Estrassi il coltellaccio, lo apersi con i denti e tagliai un trefolo dopo l'altro fino a che la nave non restò attaccata che a due soltanto. Poi rimasi tranquillo in attesa di recidere anche gli ultimi non appena un soffio di vento avesse nuovamente diminuito la tensione. Durante tutto questo tempo avevo udito un suono di voci provenienti dalla cabina, ma a dire il vero avevo la mente così assorta in altri pensieri che vi avevo badato appena. Adesso comunque, non avendo altro da fare, cominciai a prestarvi maggiore attenzione. In una voce riconobbi quella del nostro uomo Israel Hans, che tempo addietro era stato il cannoniere di Flint. L'altra era naturalmente quella del mio amico dal berretto rosso. Erano entrambi ubriachi, fradici e tuttora bevevano perché, mentre stavo in ascolto, uno di essi, con un urlo da beone, aprì una finestra a prua e gettò fuori qualcosa che indovinai essere una bottiglia vuota. Ma non erano solamente sbronzi. Appariva evidente che erano anche furiosamente arrabbiati. Le biestemmie volavano come chicchi di grandine e di tanto in tanto mi giungeva una tale esplosione che avrei detto sarebbe sicuramente finita a pugni. Ma ogni volta la rissa si smorzava e le voci brontolanti si abbassavano finché sopraggiungeva una nuova crisi che a sua volta si spegneva senza risultato. Finalmente la brezza giunse. La goletta nell'oscurità si pose di traverso e mi si avvicinò. Sentii la gomena allentarsi di nuovo e con un grande sforzo tagliai le ultime fibre. La brezza non esercitava che una piccola azione sulla piroga e io quasi immediatamente fui sbattuto contro la prua dell'ispagnola. Nello stesso istante la goletta cominciò a girare lentamente su se stessa attraverso la corrente. Mi dibattevo come un demonio poiché mi aspettavo da un momento all'altro di venire sommerso ma accortomi di non poter allontanare di colpo la piroga mi spinsi diritto verso poppa. Finalmente mi liberai da quella pericolosa vicinanza e proprio mentre stavo per dare l'ultima spinta le mie mani incontrarono una leggera fune penzolante fuori bordo dal cassero di poppa. Immediatamente la afferrai. Non saprei dire esattamente perché l'avessi fatto. Da principio fu un puro gesto istintivo ma quando ebbi il cavo fra le mani e lo sentii saldo la curiosità cominciò a prendere il sopravvento e decisi di dare un'occhiata alla finestra della cabina. Tirai il cavo a forza di braccia verso di me e quando ritenni di essere abbastanza vicino con un rischio enorme mi alzai quasi del tutto così da dominare il soffitto e una parete dell'interno della cabina. Intanto la goletta e la sua piccola scorta scivolavano velocemente sull'acqua e infatti avevamo già raggiunto l'altezza del fuoco dell'accampamento. La nave chiacchierava ad alta voce come dicono i marinai fendendo le innumerevoli increspature delle onde con un incessante turbinio di spruzzi e finché non riuscì a guardare al di sopra del davanzale della finestra non potei comprendere perché i guardiani non si fossero allarmati. Un'occhiata comunque fu sufficiente e non fu che una soltanto quella che osai lanciare da quell'instabile scafo e mi mostrò Hans e il suo compagno abbinghiati in una lotta mortale ognuno con una mano alla gola dell'altro. Mi lasciai cadere nuovamente sul sedile appena in tempo perché ero quasi fuori bordo. Per quel momento non riuscì a vedere altro che quelle due facce furiose e scarlatte che si dibattevano sotto la lampada fumosa e chiusi gli occhi per far sì che familiarizzassero con l'oscurità. Improvvisamente fui sorpreso dal rullio della piroga. Nello stesso momento essa deviò bruscamente e sembrò cambiarrotta. La sua velocità intanto era stranamente aumentata. Ha persi subito gli occhi. Tutt'attorno piccole onde increspate e lievemente fosforescenti si infrangevano con acuto e vivace mormorio. L'ispagnola stessa, nella cui scia a distanza di poche yard venivo ancora trasportato, parve incerta sulla direzione e ne vidi gli alberi oscillare contro l'oscurità della notte. Poi, guardando più attentamente, mi convinsi che anche essa stava accostando a sud. Gettai un'occhiata alle mie spalle e senti il cuore balzarmi in petto. Là, proprio dietro a me, ardeva il fuoco dell'accampamento dei pirati. La corrente aveva girato ad angolo retto trascinandosi dietro l'altra goletta e la piccola piroga saltellante. Sempre più veloce, gorgogliando con più forza e con mormorio sempre più intenso, la goletta filava attraverso gli stretti verso il mare aperto. D'un tratto la goletta mutò rotta, accostando forse di una ventina di gradi, e quasi nello stesso momento da bordo si levò un grido, cui tenne dietro un altro. Udì dei passi sulla scala che conduceva alle cabine e compresi che i due ubriaconi erano stati finalmente interrotti nella zuffa e si erano ripresi presagendo il disastro. Mi stesi supino sul fondo di quel povero scafo, raccomandando devotamente l'anima al creatore. Ero sicuro che, uscendo dagli stretti, saremmo andati a finire contro qualche furioso frangente dove tutti i miei guai avrebbero trovato una pronta fine. E sebbene potessi forse sopportare l'idea della morte, non riuscivo a tollerare la prospettiva del destino che mi si avvicinava. Devo essere rimasto steso così per ore, continuamente sbattuto innanzi e indietro dai marosi, e di quando in quando inzuppato dagli spruzzi, sempre in attesa che la morte mi cogliesse all'ondata successiva. A poco a poco la stanchezza mi vinse, e un momentaneo intorpidimento mi colse anche in mezzo al terrore, finché sopravvenne il sonno, e io, steso nella piroga sballottata dalle onde, sognai la mia casa e il vecchio Admiral Bamboo. 24. La crociera della piroga Era pieno giorno quando mi svegliai e mi trovai ad ondolare all'estremità sud-ovest dell'isola del tesoro. Il sole si era levato, ma era ancora nascosto alla vista dietro il grande massiccio del cannocchiale che da quella parte discendeva irto di scogli quasi fino al mare. Il capo tira la bolina e la collina di Mezzana mi stavano molto vicini. Il sole era spoglio, fosco. Il capo era cinto da rupi alte 40 o 50 piedi ed era incorniciato da ammassi di rocce franate. Ero appena un quarto di miglio allargo e il mio primo pensiero fu di vogare verso terra e approdare. Ma presto rinunciai all'idea. Tra i massi precipitati le onde si infrangevano rumoreggiando. A brevissimo intervallo si levavano e ricadevano succedendosi fragorosi rimbombi, alti spruzzi, e io mi vidi sfracellato contro quella selvaggia riva o destinato a esaurire le mie forze nel vano tentativo di scalare le rocce scoscese qualora avessi osato avvicinarmi. Né questo era tutto, perché vidi strisciare sulla piatta superficie dei massi, o lasciarsi scivolare nel mare con un gran tonfo certi enormi mostri viscidi, quattro o cinque decine in tutto, molli lumache di incredibile grossezza che facevano eccheggiare gli scogli diululati. Compresi allora che si trattava di leoni marini del tutto innocui, ma quella vista, aggiunta alla difficoltà della spiaggia e alla furia dei marosi, fu più che sufficiente a disgustarmi di un tale approdo. Avrei preferito morire di fame piuttosto che affrontare simili pericoli. Intanto pensavo di aver davanti a me una migliore opportunità. A nord del capo, tira la bolina, la spiaggia si stendeva per un ampio tratto, lasciando scoperta con la bassa marea una lunga striscia di sabbia gialla a nord della quale sorgeva un'altra punta, il capo dei boschi segnati sulla carta, sepolto da alti pini verdi che scendevano fino al mare. Ricordavo ciò che Silver aveva detto circa la corrente che spinge verso nord lungo tutta la costa occidentale dell'Isola del Tesoro, e constatando che nella posizione in cui mi trovavo ero già sotto il suo influsso, preferì lasciarmi dietro il capo tira la bolina e tenere in serbo le forze per un tentativo di approdo al capo dei boschi che pareva più abbordabile. Il mare sollevava onde grandi e lisce, la brezza lieve e costante che soffiava da sud non contrastava con la corrente, e i marosi si ergevano e ricadevano senza infrangersi. Fosse stato altrimenti sarei morto e sepolto da molto tempo ormai. Però, anche stando così le cose, è sorprendente la facilità e la sicurezza con cui la mia barchetta si tenne a galla. Sovente, mentre ancora rimanevo sdraiato sul fondo, senza più dare un'occhiata al di sopra del bordo, vedevo una gran cresta azzurra alta sopra di me, non di meno la piroga non rollava che un poco, danzando come se si fosse trovata su tante molle. Poi ricadeva dall'altra parte dell'onda, leggera come un uccello. Dopo un po' cominciai a farmi ardito. Mi sedetti per provare la mia abilità ai remi, ma anche il più piccolo spostamento nella distribuzione del peso causava violenti mutamenti nella condotta della piroga. E mi ero appena mosso che la piroga, abbandonando subito il gentile movimento oscillatorio, precipitò giù per una china d'acqua così ripida che mi provocò le vertigini, e sollevando un getto di spruzzi andò a sbattere contro il fianco dell'ondata successiva. Ero inzuppato, atterrito, e mi lasciai subito ricadere nella vecchia posizione, al che la piroga parve riprendere il suo equilibrio e mi condusse delicatamente come prima tra i marosi. Era chiaro che non bisognava ostacolarla, ma di quel passo, poiché non potevo in alcun modo governarne la rotta, che speranza mi restava di toccare la terra. Incominciai a essere tremendamente impaurito, ma non persi la testa. Innanzitutto, muovendomi con ogni precauzione, cominciai a poco a poco ad aggottare col berretto da marinaio l'acqua entrata nella piroga. Poi, gettando ancora un'occhiata sopra il bordo, mi misi a studiare come faceva scivolare così tranquillamente tra i cavalloni. Scopersi che ogni onda, invece della grande liscia e uniforme montagna che sembra da terra o dal ponte di una nave, è in tutto e per tutto simile a una catena di colline terrestri fatta di picchi, d'altipiani e di valli. La piroga, abbandonata a se stessa, girandosi e rigirandosi, si infilava, per così dire, nelle parti più basse, evitando le ripide e alte chine e le creste maggiori. Ebbene, pensai fra me, è chiaro che devo rimanere dove sono senza disturbare l'equilibrio, ma è altrettanto chiaro che posso mettere il remo sul bordo e di tanto in tanto, nelle zone tranquille, dare un colpo due verso terra. Detto fatto, mi appoggiai sui gomiti, nella posizione più scomoda, e di quando in quando davo uno o due colpi leggeri per dirigere la prua verso riva. Era una lenta e logorante fatica, tuttavia guadagnavo visibilmente terreno e nell'avvicinarmi al capo dei boschi, pur comprendendo che non lo avrei senz'altro raggiunto, mi accorsi di aver percorso alcune centinaia di yarde verso est. Certamente ero molto vicino a terra. Potevo vedere le fresche cime degli alberi agitate dalla brezza ed ero sicuro di poter approdare al prossimo promontorio. Era davvero tempo, poiché incominciavo a sentirmi torturare dalla sete. Il sole infuocato, i suoi mille riflessi sulle onde, l'acqua di mare che mi ricadeva ed evaporava addosso e incrostando di sale perfino le mie labbra, mi facevano bruciare la gola e dolere il capo. La vista degli alberi così vicini rendeva il mio desiderio quasi febbrile, ma in breve la corrente mi trascinò oltre la punta e quando una nuova distesa di mare si aperse davanti a me, vidi uno spettacolo che mutò il corso dei miei pensieri. Proprio di fronte a me, neppure a mezzo miglio di distanza, scorsi l'ispaniola alla vela. Naturalmente fui certo di venir preso, ma ero così tormentato dalla sete che non sapevo esattamente se esserne dispiaciuto o contento. Molto prima di giungere a una conclusione, la sorpresa si era del tutto impossessata della mia mente e non riuscì a far altro che fissare lo sguardo stupito. L'ispagnola era sotto la vela maestra e due fiocchi, no, l'ispagnola era sotto la vela maestra e due fiocchi e la bella tela bianca splendeva al sole come neve o argento. Nel momento che l'avvistai aveva tutte le vele spiegate e faceva rotta verso nord-ovest, supposi che gli uomini a bordo volessero girare attorno all'isola per tornare all'ancoraggio. Ora incominciava a poggiare sempre più verso ovest, perciò credetti che mi avessero visto e stessero dandomi la caccia. Tuttavia, alla fine, entrò dritta contro vento, fu respinta e restò un poco immobile con le vele scosse. «Che idioti!» dissi. «Devono essere ancora ubriachi fradici!» e pensai come li avrebbe fatti scattare il capitano Smollett. Intanto la goletta cominciava a rigirarsi e a compiere un'altra bordata. Navigò rapidamente per circa un minuto e si arrestò immobile contro vento. La manovra si ripetì più volte, avanti e indietro, su e giù, a nord, a sud, a est e a ovest. L'ispagnola navigava a scatti e a colpi violenti e ogni tentativo finiva come era iniziato con un inutile sbatter di vele. Compresi che nessuno era a governarla al timone. Ma in questo caso, dov'erano gli uomini? O erano ubriachi fradici, oppure l'avevano abbandonata, pensavo, e forse, se fossi riuscito a salire a bordo, avrei potuto restituire il vascello al capitano. La corrente portava piroga e goletta verso su dalla medesima velocità, ma a quanto alla navigazione della goletta, era così irregolare e intermittente, e ogni arresto era così lungo che non conseguiva di certo alcun vantaggio, seppure non ne perdeva. Se soltanto avessi avuto l'ardire di mettermi seduto e pagaiare, avrei certo potuto raggiungerla. Il progetto aveva un sapore di avventura che mi allettava, e il pensiero del serbatoio d'acqua accanto al cassero di prua raddoppiava il mio rinascente coraggio. Mi alzai e fui subito accolto da un'altra nuvola di spruzzi, ma questa volta non rinunciai al mio proposito, ma questa volta non rinunciai al mio proposito, e con ogni sforzo e cautela mi misi a remare dietro all'ispagnola abbandonata. Una volta imbarcai un'ondata così forte che dovetti fermarmi ad aggottare, col cuore che frullava come un uccello, ma poco a poco e imparai come dirigere la piroga, e la guidai tra le onde, ricevendo solo di quando in quando qualche colpo a prua e una spruzzata di schiuma in faccia. Stavo avanzando rapidamente verso la goletta. Potevo vedere gli ottoni luccicare sulla barra del timone mentre sbatteva qua e là, tuttavia non un'anima viva appariva sul ponte. Potevo solo supporre che fosse stata abbandonata, o che gli uomini giacessero ubriachi sotto coperta, dove forse avrei potuto rinchiuderli, facendo della nave quel che avessi voluto io. Poi, per un certo tempo, si mise a fare la peggior cosa che potesse fare per me. Stette ferma. Aveva la prua quasi a sud, ma, naturalmente, cambiava di continua direzione. Ogni volta che sbandava, le vele si gonfiavano parzialmente, riportandola subito contro vento. Così si allontanava da me non solo con la velocità della corrente, ma anche con quella della sua deriva. Ma finalmente mi si presentò l'occasione buona. La brezza diminuì per qualche secondo e divenne lievissima. La corrente a poco a poco fece accostare la ispagnola, che girò lentamente su se stessa e infine mi presentò la poppa, con la finestra della cabina tuttora spalancata e la lampada sul tavolo ancora accesa, sebbene fosse giorno. La vela maestra penzolava come una bandiera, e tranne che per la corrente la ispagnola era immobile. Negli ultimi momenti avevo perso terreno, ma ora, raddoppiando gli sforzi, ripresi l'inseguimento. Non mi dividevano dalla nave che un centinaio di iarde, quando si levò di nuovo una raffica di vento. L'ispagnola girò sul fianco sinistro e ripartì, inclinandosi e sfiorando l'acqua come una rondine. Il mio primo sentimento fu di disperazione, ma il secondo fu di gioia. La goletta accostò fino a presentarmi il fianco e continuò a girare sin quando non ebbe percorso metà e poi due terzi e poi tre quarti della distanza che ci separava. Potevo vedere le onde ribollire biancheggianti sotto il tagliamare e dal fondo della mia piroga mi parve altissima. Poi, ad un tratto, incominciai a capire. Ebbi appena il tempo di pensare e appena il tempo di agire e salvarmi. Mi trovavo sulla cresta di un'onda quando la goletta giunse precipitosamente sulla successiva. Avevo il buon presso sopra la testa. Scattai in piedi e con un balzo spinsi la piroga sott'acqua. Con una mano afferrai il baston di fiocco collocando il piede fra lo straglio e il braccio. Mentre stavo ancora là aggrappato e ansimante, un colpo sordo mi avvertì che la goletta aveva cozzato contro la piroga sommergendola e io ero abbandonato sull'ispagnola senza possibilità di ritirata. 25. Ammaino il Jolly Roger. Senza perdere tempo, strisciai lungo il buon presso e mi cadere a testa in avanti sul ponte. Mi trovavo dalla parte sottovento del castello di prua e la vela maestra che ancora portava mi nascondeva una parte del ponte di poppa. Non si vedeva anima viva. Le tavole, che non erano state più spazzate dopo l'ammutinamento, recavano numerose impronte di passi e una bottiglia vuota dal collo rotto rotolava qua e là come cosa viva. D'un tratto l'ispagnola si trovò il vento in poppa. I piocchi alle mie spalle schioccarono rumorosamente. Il timone sbatté. La nave si sollevò tutta paurosamente e venne scossa da un tremito. In quel momento stesso la randa si piegò all'interno. La vela gemette nei bozzelli lasciandomi vedere il ponte di poppa. I due guardiani erano là. Berretto rosso, supino e rigido come un palo, le braccia aperte come quelle d'un croce fisso e le labbra succhiuse che scoprivano i denti. Israel Hens, appoggiato all'impavesata, il mento sul petto, le mani penzolanti davanti a sé sul ponte, la faccia pallida sotto l'abbronzatura come una candela. Per un poco la nave continuò a sobbalzare e a procedere di traverso come un cavallo imbizzarrito. Le vele prendevano il vento ora da un bordo, ora dall'altro, e la verga della randa sbatacchiava qua e là tanto da far gemere l'albero sotto lo sforzo. Di quando in quando una nuvola di spruzzi si riversava sull'impavesata e i marosi si infrangevano contro la chiglia. Era molto più difficile navigare con quella nave così bene attrezzata che non con la primitiva e in forme piroga ormai finita in fondo al mare. A ogni sobbalzo della goletta, berretto rosso scivolava qua e là, ma ciò che era orribile a vedersi era che né il suo atteggiamento né la smorfia continua che gli copriva i denti cambiavano a quel brusco trattamento. A ogni sobbalzo anche Hans pareva ripiegarsi sempre più su se stesso e afflosciarsi sul ponte, mentre i piedi scivolavano sempre più lontano e tutto il corpo si piegava verso poppa, tanto che la faccia, poco a poco, mi fu nascosta e alla fine non potei vedere altro che un orecchio e la punta ricciuta ad un baffo. Nello stesso tempo osservai sul ponte attorno a entrambi cupe macchie di sangue e cominciai a credere che nel furore dell'ubriachezza si fossero uccisi a vicenda. Stavo guardando la scena pieno di stupore quando in un momento di calma in cui la nave era immobile, Israel Hans si girò un poco e con un debole lamento riprese la posizione nella quale l'avevo visto prima. Il gemito che denotava una sofferenza e una debolezza mortali e il modo in cui la mascella pendeva aperta mi andarono diritti al cuore, ma nel ricordare la conversazione che avevo udito dal barele delle mele ogni sentimento e di pietà mi abbandonò. Avanzai a poppa fino all'albero maestro. «Venite a bordo, signor Hans», dissi ironicamente. Girò gli occhi con fatica, ma era troppo esausto per esprimere sorpresa. Tutto ciò che riuscì a fare fu di proferire una parola «acquavite». Compresi che non c'era tempo da perdere, e schivando la verga della randa, che di nuovo si spostava qua e là per il ponte, scivolai a poppa e per la scaletta discesi in cabina. Era una scena di disordine quale difficilmente si può immaginare. Tutte le serrature erano state scassinate per cercare la carta dell'isola. Il pavimento, laddove questi scellerati si erano seduti a bere o a consultarsi dopo essersi insozzati attraversando la palude che circondava il loro accampamento, era sporco di fango. Le paratie, dipinte in bianco con decorazioni in oro, recavano l'impronta di mani sudice. Dozzine di bottiglie vuote tintinnavano negli angoli al rollio della nave. Uno dei libri di medicina del dottore era aperto sul tavolo e aveva metà delle pagine strappate, forse per accendere la pipa. In mezzo a tutto ciò la lampada gettava ancora una luce fumosa, scura e ramata come terra d'ombra. Andai in cantina. I barili erano spariti e un numero impressionante di bottiglie erano state bevute e gettate via. Certamente dall'inizio della rivolta nessuno doveva essere rimasto sobrio. Furgando qua e là trovai una bottiglia con un po' d'acquavite per Hans. Per me presi un po' di gallette, frutta in conserva, un grosso grappolo d'uva e un pezzo di formaggio. Portando tutto questo andai sul ponte, deposi le provviste dietro la testa del timone e tenendomi ben discosto dal nostro uomo andai a prua al serbatoio dell'acqua. Ne bevi una buona e lunga sforzata. Ciò fatto e non prima, porsi ad Hans l'acquavite. Prima di togliersi la bottiglia dalla bocca ne bevette un quarto di litro. Ah, esclamò, per tutti i diavoli ne avevo proprio bisogno. Mi ero già seduto nel mio cantuccio e avevo incominciato a mangiare. Gravemente ferito? Chiesi. Grugnì o piuttosto direi abbaiò. Se il dottore fosse a bordo, rispose. Mi rimetterebbe in piedi con poco. Ma io non ho fortuna, vedi, e questo è il guaio. Quanto a quella scopa è bello e morto, soggiunse indicando l'uomo dal berretto rosso. Non ero neanche un marinaio del resto. Ma tu, da dove vieni? Beh, risposi. Sono venuto a bordo a prendere possesso di questa nave, signor Hans, e vi prego di considerarmi vostro capitano fino a nuovo ordine. Mi guardò torvo, ma non disse nulla. Sulle guance gli era ritornato un po' di colore, sebbene apparisse ancora molto debole e continuasse a scivolare e ad afflosciarsi a ogni scossa della nave. A proposito, ripresi. Non posso battere questa bandiera, Hans, e col vostro permesso la mainerò. Meglio niente, piuttosto. Ed evitando un'altra volta la verga della randa, corsi alla drizza, abbassai quella maledetta bandiera e la gettai in mare. «Dio salvi il re!» gridai sventolando il berretto. «È finita per il capitano Silver!» Hans, il mento sul petto, mi osservava fisso con aria sorniona. «Suppongo», disse infine, «suppongo, capitano Hawkins, che tu abbia voglia di andare a terra ora, perché non facciamo due chiacchiere». «Ma sì», risposi. «Con tutto il cuore, signor Hans, dite pure». E ripresi a mangiare di buon appetito. «Quest'uomo», cominciò con un debole cenno del capo verso il cadavere. «O'Brien, si chiamava, uno schifoso irlandese. Quest'uomo e io avevamo alzato le vele col proposito di ricondurre la nave all'ancoraggio. Beh, lui è morto adesso. Morto e putrido come una sentina, e io non vedo chi potrà governare la nave. A meno che non te lo insegni io, tu non ne sarai capace, a quanto posso credere. E ora ascolta. Tu mi dai da mangiare e da bere, e una vecchia sciarpa o un fazzoletto per fasciarmi la ferita mi dai, e io ti dirò come governare la nave. E questo, penso vada bene per tutti e due». «Vi dirò una cosa», risposi. «Non tornerò all'ancoraggio del capitano Kidd. Intendo andare alla Baia Nord e arenarvi tranquillamente la nave». «Ne ero certo», proruppe. «Bene, non sono poi del tutto scemo, capisco qualcosa anch'io. Ho tentato il colpo, ho tentato e ho perso. E adesso tu hai la meglio. La Baia Nord? Va bene, non ho scelta io. Ti aiuterei a condurre la nave fino al molo delle esecuzioni, perdiana». Dunque, poiché la cosa mi pareva sensata, concludemmo subito il patto. Tre minuti più tardi l'ispaniola navigava col vento in poppa lungo la costa dell'isola del tesoro, e io avevo buone speranze di doppiare la punta più a nord prima di mezzogiorno e di raggiungere la Baia prima del sopraggiungere dell'alta marea, così da poterci arenare senza alcun rischio e attendere che la bassa marea ci permettesse di sbarcare. Legai quindi la barra del timone e scesi a prendere nella mia cassetta un morbido fazzoletto di seta di mia madre, col quale, aiutato anche da me, Hans si fasciò la larga ferita sanguinante alla coscia. Dopo che ebbe mangiato qualcosa e trangugiato ancora uno o due sorsi di acquavite, cominciò a riprendersi visibilmente. Si mise più dritto, parlò più forte e più chiaro e sembrò in tutto e per tutto un altro uomo. La brezza ci favoriva magnificamente. La costa ci passava davanti veloce, la costa ci passava veloce davanti agli occhi e il paesaggio mutava a ogni minuto. Presto ci lasciamo dietro le zone montuose e scivolammo lungo una costa bassa e sabbiosa sparsa qua e là di Pininani. In breve, oltrepassammo anche quella e doppiamo il promontorio della collina rocciosa che limita l'isola a Settentrione. Ero più che orgoglioso del mio nuovo stato di comandante e soddisfatto per il tempo, sereno, radioso. Adesso avevo acquavite in abbondanza e cose buone da mangiare e la coscienza, che mi aveva severamente rimproverato per la diserzione, si era acquietata per la gran conquista compiuta. Credo che non avrei avuto altro da desiderare se non fosse stato per gli occhi del nostro uomo che mi seguivano beffardi sul ponte e per l'ambiguo sorriso che gli appariva di continuo in faccia. Era un sorriso che esprimeva sofferenza e debolezza, il sorriso di un vecchio marinaio, ma, oltre a questo, vi era nella sua espressione mentre spiava, e continuava a spiare furbescamente tutto quello che facevo, una punta di derisione e un'ombra di tradimento. Il vento spirava ora verso ovest, quindi potevamo correre tanto più facilmente dalla punta nord-est dell'isola alla bocca della baia settentrionale. Soltanto che, non potendo ancorarci e non osando arenare la nave fino a che la marea non fosse salita sensibilmente, ci restava un po' di tempo libero. Il nostro uomo mi insegnò come mettere la nave in panna e vi riuscì dopo svariati tentativi, dopodiché ci sedemmo entrambi silenziosi per consumare un altro pasto. Capitano, disse lui infine con l'inquietante sorriso, abbiamo qua il mio vecchio solito compagno Brian, suppongo che tu lo debba gettare in mare. Non sono un tipo schizzinoso e non mi dolgo di averlo spacciato, ma mi pare che ora non sia decorativo, non credi? Io non sono abbastanza forte per poterlo fare e poi non mi piace questo genere di lavoro, quindi per conto mio resta dove si trova. Risposi. È una nave sfortunata questa ispagnola, Jim, proseguì Hans ammiccando. Su questa ispagnola sono stati uccisi un gran numero di uomini, un mucchio di poveri marinai morti e sepolti da che tu e io ci siamo imbarcati a Bristol. Non ho mai visto una sfortuna simile. C'era questo Brian e adesso è morto. Bene, io non sono istruito, ma tu sei un ragazzo che sa leggere e scrivere e per parlare franco, tu credi che un morto sia morto sul serio o che possa tornare in vita. Voi potete uccidere il corpo, signor Hans, ma non l'anima, questo dovreste già saperlo. Risposi. O'Brien è in un altro mondo e forse ci osserva. Ah, esclamò. Allora è una brutta faccenda. Sembra che ammazzare la gente sia tempo sprecato. In ogni modo gli spiriti contano poco a quanto ho visto e mi proverò io con gli spiriti, Jim. E adesso che hai parlato così chiaro, ti sarei riconoscente se volessi scendere in cabina a prendermi una... una... accidenti, non trovo la parola. Bene, a prendermi una bottiglia di vino, Jim. Quest'acquavite è troppo forte per la mia testa. L'esitazione del nostro uomo non mi parve naturale e quanto al preferire il vino all'acquavite non ci credevo affatto. Tutta la storia era un pretesto. Voleva che abbandonassi il ponte, questo era evidente, ma con quale scopo non potevo assolutamente immaginare. I suoi occhi non incontravano mai i miei. Si posavano qua e là, su e giù, ora si volgevano al cielo, ora con una sfuggevole occhiata al cadavere di O'Brien. Continuava a sorridere e a mostrare la lingua con aria colpevole e imbarazzata, così che anche un bambino avrebbe detto che stava tramando qualche inganno. Comunque, risposi prontamente, ben sapendo in che consistesse la mia superiorità e cioè che con una persona tanto stupida avrei potuto facilmente nascondere ogni sospetto fino alla fine. Un po' di vino? Ripetei. Molto meglio. Lo volete bianco o rosso? Beh, credo che sia proprio lo stesso per me, amico, rispose. Purché sia forte e abbondante, che differenza c'è? D'accordo, risposi. Vi porterò un po' di porto, signor Hans, ma dovrò cercarlo. Ciò detto, mi precipitai giù dalla scaletta facendo tutto il rumore possibile. Poi mi tolsi le scarpe, attraversai di corsa e silenziosamente il corridoio, risalì la scaletta del castello di prua e misi fuori la testa dall'osteriggio. Sapevo che non poteva aspettarsi di vedermi là, tuttavia presi ogni precauzione possibile e infatti il peggiore dei miei sospetti ebbe conferma. Dalla posizione nella quale si trovava si era rizzato sulle mani e sulle ginocchia e sebbene la gamba lo facesse evidentemente soffrire quando si muoveva, lo udì infatti soffocare un gemito, tuttavia riuscì ad attraversare il ponte alquanto in fretta. In mezzo minuto raggiunse gli ombrinali di sinistra e trasse da un rotolo di corda un lungo coltello o piuttosto un corto pugnale macchiato di sangue fino all'impugnatura. Lo esaminò un momento, ghignando, ne provò la punta sulla mano, Indy si affrettò a nasconderlo sotto la giacca e tornò svelto al suo posto contro l'impavesata. Questo era quanto desideravo sapere. Israel si poteva muovere, era armato adesso e se ne aveva preso tanta pena per liberarsi dalla mia presenza e se aveva preso tanta pena per liberarsi della mia presenza era chiaro che la vittima dovevo essere io. Ciò che avrebbe fatto poi, se tentare di attraversare l'isola trascinandosi dalla baia settentrionale fino all'accampamento nella palude oppure sparare una cannonata con la speranza che i compagni andassero in suo aiuto, era naturalmente più di quanto potessi dire. Non di meno, ero certo di potermi fidare di lui riguardo a una cosa perché si trattava di comune interesse, la manovra della goletta. Entrambi desideravamo farla arenare al sicuro in un luogo riparato così che, a tempo debito, potesse prendere il largo di nuovo con poca fatica e poco rischio. Fino a che ciò non fosse attuato, pensavo che la mia vita sarebbe stata di certo risparmiata. Rifletendo sulla faccenda, non ero rimasto in ozio. Tornato in cabina, mi ero infilato di nuovo le scarpe, avevo preso a caso una bottiglia di vino per giustificarmi ed ero ricomparso sul ponte. Enz giaceva così come lo avevo lasciato, tutto ripiegato su di sé come un fagotto, con le palpebre abbassate quasi che fosse troppo debole per sopportare la luce. Comunque, al mio sopraggiungere levò gli occhi, ruppe il collo della bottiglia con l'abilità di chi vi è abituato, beve un sorso abbondante e fece il brindisi favorito, alla fortuna. Indy rimase quieto per un po'. Poi, estraendo un rotolino di tabacco, mi pregò di tagliargli una cicca. «Tagliamene un pezzetto», disse, «perché non ho il coltello, e anche se l'avessi me ne mancherebbe la forza». «Ah, Jim Jim, credo proprio di andarmene. Tagliamene una cicca, che forse sarà l'ultima, ragazzo, perché mi sto avviando verso la dimora definitiva, non c'è dubbio». «Va bene», risposi, «vi taglierò un po' di tabacco, ma se fossi in voi e mi sentissi così male, direi le preghiere dei buoni cristiani». «Perché?», chiese. «Dimmi dunque perché». «Perché?», proruppi. «Mi stavate proprio interrogando adesso a proposito dei morti. Voi avete mancato di parola. Siete vissuto nel peccato, nella menzogna e nel sangue. Ai vostri piedi c'è un uomo che avete ucciso, e mi domandate perché. Per l'amor di Dio, signor Hans, questo è il perché». Parlavo con un certo calore, pensando al pugnale insanguinato che si era nascosto in tasca, destinato, nei suoi malsani propositi, a uccidere me. Dal canto suo beve una bella sorsata di vino e parlò con la più straordinaria solennità. «Per trent'anni», disse, «ho navigato su tutti i mari e visto il buono e il cattivo, il meglio e il peggio, il bel tempo e il mai il tempo. Ne proviste esaurirsi, coltelli sguainati e non so che altro. Beh, io ti dico ora che non ho mai visto venire il bene dalla bontà. Preferisco quello che colpisce per primo. I morti non mordono, questo è il mio parere. Amen e così sia. E ora guarda», aggiunse, mutando improvvisamente tono. «Basta con queste sciocchezze. La marea è già salita abbastanza. Prendi soltanto i miei ordini, capitano Hawkins, così navigheremo verso l'approdo e sarà finita». Tutto considerato, avevamo da percorrere appena due miglia, ma la navigazione era delicata. La zona d'accesso all'ancoraggio settentrionale non era soltanto stretta e poco profonda, ma si stendeva da est a ovest di modo che per potervi entrare bisognava manovrare la goletta con grande abilità. Io ero, credo, un valido subalterno, ma certamente Hans era un eccellente pilota, poiché andammo verso l'interno schivando e sfiorando i banchi di sabbia con mirabile sicurezza e precisione. Non appena superata l'imboccatura, la terra ci circondò da ogni parte. Le rive della baia settentrionale erano boscose quanto quelle dell'ancoraggio a sud, ma la superficie era più lunga e stretta e somigliava piuttosto all'estuario di un fiume, e in realtà lo era. Proprio di fronte a noi, all'estremità meridionale, vedemmo i relitti di una nave naufragata e ormai in sfacelo. Doveva essere stato un gran bastimento a tre alberi, ma era rimasto così a lungo esposto alle intemperie che era ricoperto da una fitta rete di alghe gocciolanti, mentre in coperta piante terrestri avevano messo radici e ora prosperavano rigogliose di fiori. Era un triste spettacolo, ma dimostrava che l'ancoraggio era tranquillo. Ora, disse Hans, guarda là, c'è un bel posticino per arenarvi la nave. La sabbia è liscia e fine, non spira mai alito di vento, alberi all'intorno e fiori che sbocciano come in un giardino su quella vecchia nave. E una volta arenati, mi informai, come potremmo rimetterci a galla. Ecco, rispose, con la bassa marea tu porti a terra un cavo, là, dall'altra parte. Lo fai girare attorno a uno di quei grossi pini, poi lo riporti a bordo e lo giri attorno all'argano e aspetti l'alta marea. Quando sopraggiunge, tutto l'equipaggio prende ad alare il cavo e la goletta se ne va piano piano. E adesso, ragazzo, attento, siamo vicini al posto adatto e abbiamo troppo slancio. Un po' a dritta, così, a dritta, un po' a sinistra, fermo, fermo. In tal modo dava gli ordini, ai quali obbedivo senza fiatare, finché ad un tratto gridò, «Ora, figliuolo, forza!». Misi la barra al vento e l'ispaniola accostò rapidamente correndo col dritto di prua verso la riva bassa e boscosa. L'eccitazione di queste ultime manovre aveva un po' allentato la vigilanza che avevo fino allora tenuto sul nostromo. Ed ero così assorto, nell'attesa che la nave toccasse il fondo, da essermi dimenticato del tutto il pericolo che mi incombeva sul capo, e mi sporgevo dall'impavesata di diritta, osservando le increspature che si aprivano spumeggiando davanti alla prua. Sarei caduto senza difendere in alcun modo la mia vita se non fossi stato colto da un improvviso senso di inquietudine che mi fece volgere il capo. Forse avevo udito uno scricchiolio, o visto con la coda dell'occhio muoversi l'ombra dell'uomo, oppure fu forse semplice istinto, come quello del gatto. Ma sta di fatto che quando mi voltai, Hans era là, quasi a mezza via, col pugnale nella destra. Quando i nostri occhi si incontrarono, ambedue gettammo un urlo, ma mentre il mio era un grido di terrore, il suo era un ruggito di rabbia simile a quello d'un toro infuriato. Nello stesso istante si gettò in avanti, e io feci un balzo da lato verso prua. Intanto avevo abbandonato il timone, che ebbe uno scatto violento, e penso che proprio questo mi abbia salvato la vita, poiché la barra colpì Hans al petto, immobilizzandolo per un momento. Prima che potesse riaversi, io ero al sicuro, fuori dell'angolo dove mi aveva intrappolato, e avevo tutto il ponte a mia disposizione. Mi fermai proprio davanti all'albero maestro, tolsi di tasca una pistola, presi la mira impassabile, benché gli si fosse già voltato e stesse gettandosi su di me, e premetti il grilletto. Il cane cadde, ma non seguì né un lampo né una detonazione. L'acqua marina aveva reso inservibile l'innesco. Maledissi la mia negligenza, perché non avevo rinnovato l'esca e ricaricato prima le mie uniche armi. Non sarei stato, come ora, una povera pecorella in fuga davanti al beccaio. La lestezza con cui, ferito com'era, riusciva a muoversi, era prodigiosa. I capelli grigi gli ricadevano sulla faccia. Una faccia fatta rossa come una rossa bandiera dalla furia e dall'ira. Non ebbi tempo né troppa voglia, dire il vero, di provare l'altra pistola, convinto com'ero che sarebbe stato inutile. Una cosa, però, vedevo ben chiara. Non dovevo accontentarmi di retrocedere, altrimenti mi avrebbe presto serrato a prua, così come un momento prima era quasi riuscito a serrarmi a poppa, e una volta acciuffato, nove o dieci pollici di pugnale, lordo di sangue, sarebbero stati la mia ultima esperienza prima dell'eternità. Fosi palmi contro l'albero maestro, che era di rilevante grossezza, e attesi con ogni nervo sotto tensione. Visto che intendevo sfuggirgli, anche egli si fermò. Passarono uno o due minuti di finte da parte sua e di corrispondenti mosse da parte mia. Era un gioco che avevo fatto spesso a casa, attorno agli scogli della baia della collina, ma non era certo un simile violento batticuore, ma non certo con un simile violento batticuore. Tuttavia, come ho detto, era un gioco da ragazzi, e io pensavo di poter tener testa a un vecchio marinaio con una gamba ferita. In vero, il mio coraggio incominciava ad aumentare a tal punto da permettermi pensieri piuttosto ottimistici circa la soluzione della faccenda, ma mentre ero certa di poterla tirar fuori per le lunghe, non vedevo alcuna possibilità di uno scampo definitivo. Ebbene, le cose stavano a questo punto, quando all'improvviso l'ispagnola cozzò, vacillò, si incagliò per un attimo nella sabbia, poi in un baleno si inclinò a sinistra fino a che il ponte formò un angolo di 45 gradi e una mezza tonnellata d'acqua si riversò negli ombrinali facendo una pozza fra il ponte e l'impavesata. In un secondo finimmo ambe due a gambe all'aria e rotolammo quasi insieme negli ombrinali, mentre il cadavere di Berretto Rosso, le braccia aperte, ruzzolava rigido dietro di noi. Infatti eravamo così vicini che la testa mi finì contro i piedi del nostromo con un colpo che mi fece battere i denti. Nonostante il colpo e il resto, io fui il primo a rialzarmi, perché Hans era incappato nel cadavere. L'improvviso sbandamento della nave aveva reso il ponte inadatto alle corse e dovevo trovare lì per lì una nuova via di scampo perché il mio nemico mi stava raggiungendo. Rapido come il pensiero, balzai sulle sartie di Mezzana, sulle quali mi arrampicai a palmo a palmo e non ripresi fiato sinché non fui seduto sulle crocette. La mia prontezza mi aveva salvato. Il pugnale era penetrato a meno di mezzo piede sotto di me mentre io continuavo la mia fuga verso l'alto. Israel Hans rimase là, a bocca aperta, con la faccia volta all'alto come una perfetta stato della sorpresa e del disappunto. Poiché avevo un minuto a disposizione, cambiai l'esca alla pistola e pronta che fu, per essere doppiamente sicuro, mi misi a vuotare l'altra e a caricarla di nuovo. La mia nuova occupazione preoccupò Hans. Cominciò a vedere che la sorte gli era avversa e dopo un'evidente esitazione si trascinò faticosamente tra le sartie e col pugnale fra i denti cominciò lentamente e pienosamente ad arrampicarsi. Gli costò lungo tempo e interminabili lamenti trascinarsi dietro la gamba ferita, mentre io avevo tranquillamente terminato ogni preparativo molto prima che fosse a un terzo della salita. Allora, con una pistola in ciascuna mano, mi rivolsi a lui. Un altro passo, signor Hans, e vi farò saltare le cervella. I morti non mordono, lo sapete bene? Soggiunsi con una risatina. Si fermò di botto, compresi dall'espressione del suo viso che cercava di concentrarsi, ma il processo era così lento e laborioso che nella ritrovata sicurezza scoppià in una fragorosa risata. Finalmente, dopo aver inghiottito saliva per una o due volte parlò, ma in viso recava ancora la medesima espressione di estrema perplessità. Per parlare dovette togliersi il pugnale di bocca, ma quanto al resto rimase immobile. Jim disse, vedo che ci troviamo in una situazione difficile, tu e io, e dovremo venire a patti. Ti avrei preso se non fosse stato per quello sbandamento, ma non ho fortuna io. Capisco che dovrò arrendermi, ed è duro, credi, per uno stromo come me cedere di fronte a un novellino come te, Jim. Bevevo le sue parole sorridendo, vanitoso come un galletto in cima a un muricciuolo, quando, in un batter d'occhio, lui rialzò la mano destra fino alla spalla. Qualcosa fischiò nell'aria come una freccia. Sentì un colpo, poi una fitta, e mi trovai inchiodato con la spalla all'albero maestro. Nell'acuto dolore e nella sorpresa di quel momento, non so ben dire se fu di mia volontà, ma certamente senza una mira prestabilita, tutte e due le pistole scattarono e mi fuggirono di mano. Ma non caddero sole. Con un grido soffocato, il nostro uomo lasciò andare le sartie e precipitò a capofitto nell'acqua. 27. Pezzi da otto Data l'inclinazione della nave, gli alberi sporgevano alquanto sull'acqua e io, appollaiato sulle crocette, non avevo altro sotto di me che la superficie della baia. Hans, che non si trovava altrettanto in alto, stava quindi più vicino alla nave ed era caduto fra me e l'impavesata. Riemerse una volta in una schiuma tinta di sangue e poi si inabisò ancora per sempre. Calmatasi l'acqua, lo vidi abbandonato sulla chiara sabbia lucente nell'ombra del fianco della nave. Uno o due pesci guizzarono lungo il suo corpo, che a volte, nel tremolio dell'acqua, sembrava muoversi un poco, quasi stesse tentando di emergere. Ma era morto davvero, colpito dagli spari e poi annegato, e costituiva carne per i pesci in quello stesso luogo dove si era proposto di accopparmi. Non appena fui certo di tutto ciò, cominciai a sentirmi mancare per la debolezza e la paura. Il sangue mi scorreva sul petto e sulla schiena. Il pugnale, nel punto in cui mi aveva inchiodato la spalla all'albero, bruciava come un ferro rovente. Tuttavia non erano tanto queste sofferenze fisiche a tormentarmi, dato che mi pareva di poterle sopportare senza un lamento, quanto il terrore di cadere giù dalle crocette nella placida acqua verde vicino al cadavere del nostro uomo. Mi aggrappai con ambo le mani sino a farmi dolere le unghie e chiusi gli occhi come per nascondermi il pericolo. A poco a poco ripresi animo, il polso si acquietò e cominciò a battere con un ritmo normale e io riacquistai la padronanza di me stesso. Il primo pensiero fu di estrarre il pugnale, ma o che fosse penetrato troppo saldamente o che i miei nervi cedessero, dovetti rinunziarvi con un brivido violento. Cosa piuttosto strana, proprio quel brivido compì l'operazione. Infatti il coltello aveva rischiato per un pelo di mancare il colpo e mi tratteneva soltanto per un pizzico di pelle che col tremito si lacerò. Il sangue sgorò subito più rapidamente, ma fui di nuovo padrone di me, restando attaccato all'albero soltanto con la giacca e la camicia che lacerai con uno strattone deciso. Poi, per le sartie di dritta, riguadagnai il ponte. Per nulla al mondo mi sarei avventurato, scosso come ero sulle sovrastanti sartie di sinistra dalle quali Israel era appena precipitato. Scesi sotto coperta e mi medicai come potei la ferita. Mi doleva parecchio e sanguinava abbondantemente, ma non era né profonda né pericolosa, né mi infastidiva troppo quando usavo il braccio. Poi mi guardai attorno, e poiché adesso la nave in un certo senso era mia, pensai di liberarla dell'ultimo passeggero, il defunto O'Brien. Era stato gettato, come ho detto, contro l'impavesata, dove giaceva come un orribile goffo pupazzo di grandezza senz'altro naturale, ma assai lontano dai colori e dalla grazia della vita. Data la posizione, riuscì facilmente ad attuare il proposito, e poiché le tragiche avventure vissute ma avevano fatto svanire il terrore dei morti, lo presi alla cintola come un sacco di crusca e con una bella spinta lo gettai fuori bordo. Precipitò con un tonfo fragoroso. Il berretto rosso gli sfuggì e rimase a galleggiare sulla superficie, e non appena le acque si acquietarono, vidi lui ed Israel stesi l'uno accanto all'altro che ondeggiavano al tremulo moto dell'acqua. O'Brien, benché ancora giovane, era calvo. E ora stava là, con la testa pelata fra le ginocchia dell'uomo che lo aveva ucciso, mentre i pesci guizzanti andavano innanzi e indietro sopra di loro. Adesso ero solo sulla nave. La marea cominciava ad abbassarsi. Il sole era così prossimo al tramonto che già l'ombra dei pini sulla costa occidentale cominciava a stendersi sull'ancoraggio, tracciando profili sul ponte. La brezza della sera si era levata, ma sebbene il luogo fosse ben riparato dalla collina dai due picchi a oriente, il sartriame aveva preso a canticchiare una piccola, dolce melodia con l'accompagnamento delle vele oziose che sbattevano qua e là. Mi resi conto del pericolo che minacciava la nave. Abbassai speditamente i fiocchi e li raccolsi in un mucchio sul ponte, ma quanto alla vela maestra la cosa era ben più ardua. Naturalmente, quando la goletta si era inclinata, la verga della randa si era abbattuta fuori bordo e la sua cima, con un piede o due della vela, pescava sott'acqua. Compresi che ciò accresceva il pericolo, tuttavia la tensione era così forte che avevo quasi paura di metterci mano. Alla fine presi il coltello e tagliai le rizze. Il picco cadde istantaneamente. Le vele, ora slegate, formarono un gran pallone che galleggiò sull'acqua, ma poi, per quanto tirassi, non potei muovere l'ala inferiore. Questo fu quanto riuscì a fare. Per il resto, l'ispaniola doveva, come me, fidare nella buona fortuna. Frattanto l'ombra era scesa sull'ancoraggio. Gli ultimi raggi, ricordo, si riversarono attraverso lo fiorito della nave naufragata, brillando come gioielli. Cominciava a far freddo. La marea fluiva rapida verso il largo e la goletta si adagiava sempre più sulla punta dei bagli. Strisciai a prua e guardai fuori. L'acqua sembrava poco profonda. Per maggior sicurezza mi aggrappai con le mani alla gomena recisa e mi lasciai scivolare dolcemente fuori bordo. L'acqua mi arrivava appena alla cintola. La sabbia era compatta e segnata dalle ondulazioni e io raggiunsi felicemente la riva lasciando l'ispaniola adagiata sul fianco, con la vela maestra stesa sulla superficie della baia. Intanto il sole si era abbassato e la brezza aspirava leggera nel crepuscolo fra i pini ondeggianti. Se non altro, ero finalmente a terra e non vi ritornavo a mani vuote. La goletta era là, libera al fine degli ultimi fili bustieri e pronta a caricare i nostri uomini e a riprendere il mare. Non desideravo che di raggiungere il fortino per sarsfoggio delle mie imprese. Forse sarei stato biasimato per la scappata, ma la cattura dell'ispaniola rappresentava una valida ragione e speravo che persino il capitano Smollett ammettesse che non avevo perso tempo. Rallegrato da questi pensieri, mi diressi verso il fortino verso i compagni. A poco a poco la notte si faceva più scura. Era tanto se riuscivo a dirigermi, sia pure approssimativamente, verso la mia destinazione. La doppia collina alle spalle e il cannocchiale alla destra mi apparivano sempre più sbiaditi. Le stelle erano pallide e poco numerose, e sul pianoro dove stavo vagando continuavo a incespicare nei cespugli e a ruzzolare nelle buche di sabbia. D'un tratto una specie di chiarore si diffuse attorno a me. Sollevai lo sguardo. Un pallido e incerto raggio lunare lambiva la vetta del cannocchiale. Poco dopo vidi qualcosa di argente o muoversi laggiù dietro gli alberi, e mi resi conto che la luna si era levata. Col suo aiuto percorsi in fretta il resto del tragitto. Talvolta camminando, tra l'altra correndo, mi avvicinai impazientemente al fortino. Tuttavia, quando mi inoltrai nella boscaglia che gli stava di fronte, non fui tanto sventato da non rallentare il passo e procedere con un tantino di cautela. Sarebbe finita, sarebbe ben finita miseramente l'avventura, se per errore fossi rimasto ucciso dai miei stessi compagni. La luna saliva sempre di più. La sua luce si diffondeva qua e là penetrando nelle zone più aperte del bosco, e proprio di fronte a me un chiarore di diversa tinta appariva fra gli alberi. Era di un rosso vivo, che di quando in quando si oscurava un poco, come fosse prodotto dalle braci di un falò prossimo a estinguersi. In fede mia non riuscivo davvero a capire che cosa potesse essere. Finalmente raggiunsi il limite della radura. L'estremità occidentale era già inondata dal chiaro di luna. Il resto, e anche la capanna, erano immersi nell'oscurità, interrotta soltanto da lunghe argente e strisce di luce. All'altro lato della casa era stato acceso un immenso fuoco, le cui braci ardenti spandevano un costante riverbero rossastro che contrastava notemolmente con il delicato pallore della luna. Non si muoveva anima viva, non un suono all'infuori del mormorio della brezza. Mi fermai, molto sorpreso in cuor mio, e forse anche un poco impaurito. Non era nostra abitudine accendere gran fuochi. Infatti, secondo gli ordini del capitano, dovevamo usare la legna da ardere con molta parsimonia. Perciò cominciai a temere che durante la mia assenza fosse accaduto qualcosa di spiacevole. Girai guardingo attorno all'estremità orientale, tenendomi bene in ombra, e nel luogo adatto, dove l'oscurità era più fitta, scavalcai lo steccato. Per maggior sicurezza mi gettai a terra carponi e strisciai senza far rumore verso l'angolo della casa. Nell'avvicinarsi, nell'avvicinarmi, il mio cuore si sentì subitamente alleggerito. Non era un rumore piacevole in sé, e me ne ero spesso, ma in quel momento l'unanime russare pacifico e fragoroso dei miei compagni addormentati era una musica per me. Il grido marino delle vedette, quel bel tutto va bene, non m'era mai giunto all'orecchio in modo più rassicurante. Intanto non vera alcun dubbio su una cosa, facevano una pessima guardia. Fosse stato Silver coi suoi a introdursi furtivamente, non uno di loro avrebbe visto l'alba. Ecco ciò che significava, pensavo, avere il capitano ferito. E di nuovo biasimai severamente me stesso per averli lasciati in quel pericolo con così pochi uomini per montare la guardia. Intanto avevo raggiunto la porta e mi ero fermato. Nell'interno tutto era buio, tanto che i miei occhi non potevano distinguere nulla. Quanto ai rumori, si udiva il costante russare dei dormienti accompagnato di quando in quando da un debole suono, un fruscio o un beccare che non riuscivo assolutamente a spiegarmi. Con le braccia protese entrai deciso. Mi sarei coricato al mio posto, pensavo con una tacita risatina, e mi sarei goduto le loro facce quando al mattino mi avessero scoperto. Il mio piede urtò contro qualcosa di cedevole. Era la gamba di un dormiente. Egli si voltò con un grugnito, ma senza svegliarsi. Poi, tutta un tratto, una voce stridula e ruppe nell'oscurità. Pezzi da otto, pezzi da otto, pezzi da otto. E così via, senza posa né mutamento come il clamore di un piccolo mulino. Il pappagallo verde di Silver, il capitano Flint. Era lui che avevo sentito beccare un pezzo di corteccia. Era lui che faceva migliore guardia di ogni uomo e annunziava il mio arrivo con il suo monotono ritornello. Non ebbi il tempo di riprendermi. Alle acute penetranti grida del pappagallo, i dormienti si svegliarono e balzarono in piedi, e con una potente bestemmia, la voce di Silver urlò, «Chi va là?». Mi volsi per fuggire. Urtai violentemente una persona, indietreggiai e finì dritto nelle braccia di una seconda persona che le serrò attorno a me e tenendomi stretto. «Prendi una torcia, Dick!», disse Silver quando la mia cattura fu compiuta. Uno degli uomini lasciò la capanna e subito ritornò con un tizzone acceso.